Importante iniziativa organizzata dal Rotary Club di Vallo della Lucania, nei giorni scorsi presso il Palazzo della Cultura, dal titolo Innovazioni in 3T, evento che ha visto la grandissima, preziosa ed ineguagliabile presenza del dottor Elio Schiavo, eccellenza del nostro territorio, amministratore delegato di Nuvole e la Cloud Company del gruppo Team. A moderare l'incontro, Gennaro Lamanna del Rotary Club di Vallo della Lucania, con i saluti e gli interventi di Clelia Schiavo, sempre del Rotary Club, del sintaco Antonio Sansone e di Marco Sansone di Sistema Cilento. Il dottor Schiavo ha ottenuto una notevole lezione magistrale parlando di innovazioni in 3T, dove le 3T stanno ad indicare tecnologia, tempo e tenacia. Dove serve sempre più tecnologia, ci sta sempre meno tempo e corre tenacia per portare l'innovamento. Il palazzo è il giorno della sua laurea a King's College a Londra e qui a destra è il palazzo. Questi sono tre pilastri fondamentali, sono tre persone che mi hanno permesso di fare quello che ho fatto e di riuscire a mappare un po' quelle che sono state letate durante la mia carriera. Io non mi voglio annoiare con quello che mi è accaduto nel mio percorso professionale, però vi dico solo due cose che credo che possono muovere la vostra emozione. Io sono nato qui, sono il figlio del percorso Schiavo, ho il privilegio e l'onore di essere il quarto dei cinque fratelli che mi hanno aiutato a fare tutto quello che ho fatto. E sono contento che sia stato il quarto, perché se sei il primo è complicato, perché sei la tripista, perché sei il quarto, osservi il primo, osservi il secondo, osservi il terzo. Impari, capisci quali sono i muri dove non devi sbattere, poi ti aggrappi alle cose che ti servono, quindi questa è la cosa. Però le due cose che vi dico, per evitare di teliarvi con tutte le opportunità che ho avuto la possibilità di cogliere, e che io lavoro in quattro continenti e di notte le opportunità.